ok, dopo la modellazione proviamo adesso a texturizzare quando partiamo da immagini come in questo caso la texturizzazione in realtà non è così complicata da fare nel senso che si può, andiamo in non pad set anzi addirittura andiamo in UV editing che è il meccanismo che ci permette di fare le nostre varie cose e poi prendiamo sulla sinistra, abbiamo tre pezzi che abbiamo modellato e se li texturizziamo partendo sempre dall'immagine quindi qui premiamo immagine, facciamo pensavo che l'avessi già vista, visto che l'ho già presa di là ma facciamo open, quindi apriamo l'immagine sempre della farfalla da qui siamo partiti, è questa, farfalla e quindi ci prendiamo questa immagine e su questa immagine la usiamo adesso progressivamente adesso prendiamo l'ala di destra che è questa e mentre siamo in edit mode selezioniamo A per avere tutta la nostra retinatura vedete che essendo partiti da un piano la retinatura è perfetta quella del piano originale ma noi adesso in realtà faremo U quindi facciamo U e facciamo la project from view facendo la project from view quello che succede è che se non abbiamo girato, voltato l'aspetto che ha questa qui diventa esattamente la nostra ala quindi se noi facciamo A per selezionarla la mettiamo più o meno al centro e poi la scaliamo in linea teorica no, adesso non coincide perfettamente però forse se la scaliamo sulla Y ecco, la scaleremo sulla Y e poi probabilmente dovremmo anche abbassarla GY e più o meno, insomma in qualche modo dovrebbe essere messa in modo tale da coprire tutta la texturizzazione della farfalla eccezione fatta per il verde che la tagliamo fuori ed eventualmente se abbiamo dubbi andiamo sempre con questo che è il Proportional Editing praticamente aggiustiamo questo in modo tale da cercare di essere sicuri di prendere solo la parte che ci interessa quindi come vedete il Proportional Editing diventa proprio uno strumento di lavoro che si può usare anche nella texturizzazione ora, se noi abbiamo fatto questa cosa qua in teoria la texturizzazione di questo pezzo di ala è già fatto quindi per riuscire poi a a vedere se è vero andiamo, mentre siamo sulla nostra ala andiamo nel materiale rosso e qui facciamo un nuovo materiale e questo materiale chiamiamolo ala destra poi vediamo se riusciamo a riciclarlo però indicativamente va bene così e gli mettiamo che il Base Color è tendenzialmente l'Image Texture quale Image Texture sarà la nostra farfalla ora, per vederla dobbiamo qui premo il tasto centrale del mouse vado qua su tutti gli shading e in teoria se clicco su questo shading si dovrebbe vedere esattamente questo vediamo un po' vedete che abbiamo esattamente la texturizzazione dell'ala sia da un lato e poi viene fatto uguale anche dall'altra parte opposta quindi in realtà è texturizzata benino stesso lavoro lo devo fare con l'altra quindi qui andiamo in siamo già quindi selezioniamo l'altra ala andiamo in Edit Mode col Tab selezioniamo tutti e qui facciamo ancora un U Project From View stessa cosa abbiamo fatto prima e questo lo qua facciamo A per selezionare tutto la nostra ala e poi cerchiamo sempre con lo stesso sistema S Y l'allarghiamo un po' G la spostiamo un po' S ecco qua come vedete c'è un po' ma in realtà è perché ci abbiamo anzi facciamo così ripartiamo da 0 per vedere l'errore quindi mentre siamo qua ci accertiamo di non avere il proporzionale e ritentiamo di fare questo mestiere quindi facciamo il nuovo L'U Project From View ah no c'è ancora un problemino quindi niente questo solo che adesso se noi la S Y dovrebbe dovrebbe muovere ah si perché si muove un po' rispetto alle a come l'abbiamo progettata inizialmente cioè quindi avremmo dovuto applicare tutte le modifiche ma per un momento potrebbe S Y vabbè sentite usiamo ancora il Proportional Editing per aggiustare questa roba in qualche modo quindi cosa facciamo andiamo a selezionare i vari pezzi G anzi però dobbiamo mettercelo di nuovo il Proportional Editing e cerchiamo di fare in modo tale che più o meno insomma ci aggiustiamo un po' facciamo del nostro meglio usando bene il Proportional Editing questo mettiamo ancora qua ok adesso proviamo a vedere se con tutto ciò c'è una texturizzazione interessante e come facciamo a farlo stesso mestiere di prima andiamo su questa sul materiale associato alla nostra alla sinistra e vediamo se riusciamo a dargli lo stesso materiale alla destra e sì direi che più o meno ha funzionato nel senso che essendo lo stesso materiale ma avendogli fatto un'ovimap diverso lui di fatto è riuscito quindi questa invece di chiamarlo alla destra lo chiamiamo foto farfalla perché è associato all'immagine della foto farfalla vedrete che a questo punto manca un pezzettino che è il corpo e per il corpo facciamo lo stesso mestiere nel senso che andiamo selezioniamo in object mode vedete che la textualizzazione è carina andiamo selezioniamo il corpo che è questo andiamo in edit mode facciamo di nuovo U project from view ecco in realtà andiamo poi qua selezioniamo tutto lo spostiamo e se riusciamo a farlo magari lo ruotiamo leggermente vediamo un po' se riusciamo a farlo che sia coincidente vedete con quel pezzo lì quindi a questo punto potrebbe anche andare quindi se va bene facciamo lo stesso mestiere di prima gli selezioniamo la foto farfalla in questo caso poi torniamo in edit mode vedete che qui praticamente è rimasto cioè adesso non è proprio non è proprio perfettissimo però se noi gli nascondiamo H la parte di sotto abbiamo comunque un corpo della farfalla che se questo è un se la farfalla adesso la vedrete poi volare dopo l'animazione insomma le imperfezioni della texture si vedranno molto poco anche perché della farfalla di fatto si vedrà le ali da lontano il concetto è che si vedranno le ali quindi io direi questo è il secondo pezzo di texturizzazione che direi che è andato anche abbastanza bene ci rivediamo fra poco invece per il terzo frammento in cui cercheremo di animare invece questa farfalla ok ok